Oh, ma quelli che stanno rimanendo così vogliono morire subito, tipo Eh, vabbè, regà, se l'è cercata però, anche quella lì, ragazzi, cioè Eh, per forza Questo gioca e lo spingiamo giù No, attenzione, si è salvato Si è salvato, no, povero panda Povero panda, regà, ma che sfiga Ma l'ate visto il panda? Colpito così Da due bombe, una dietro l'altra Vabbè, quello se l'è mezza cercata, non ha guardato dietro Eh, l'ha capito, l'ha capito e gli voleva rompere le scate Si è salvato, ma poi si è impanicato col doppio salto, va bene Ah, facciamo così Oh mio Dio Scappa, 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 squalo, scappa Che lì c'è stava la bomba, guarda, eh, poverino, lui scappa Vabbè, dai, non usiamo più le motte, non le usiamo Non le uso, giuro che non le uso più Allora, ritorniamo un attimino al centro Regà, ma l'aveva mezzo preso La bomba non gli ha fatto nulla, tipo No! No, raga, rip, vabbè, ci sta Ci sta, GG al megalodonte, è stato bravo Grazie a tutti